Cosmo Pharma è anche il luogo ideale per tutte quelle aziende che si occupano di sistemi integrati di gestione, è il caso anche di Pharma Service, io sono con Federico Paolucci della divisione consulting, buongiorno e anche voi quest'anno festeggiate il ventesimo insieme a Cosmo Pharma, siete presenti qui anche voi proprio da vent'anni, dunque una conferma ogni anno di più? Una conferma è anche per noi il nostro compleanno e quindi rinnoviamo la nostra presenza a questo evento importante che ogni anno rinnoviamo anche la professionalità e l'attenzione verso i nostri clienti che da vent'anni ci seguono in tutte le nostre scelte. Facciamo un po' una panoramica nella vostra azienda e parliamo un po' in generale di quello di cui vi occupate? Allora Pharma Service, gruppo, si occupa di tutto ciò che all'interno delle soluzioni per il punto venita farmacia permettono oggi di coprire a 360 gradi qualsiasi tipo di esigenza. Quest'anno in particolare è un momento anche importante perché abbiamo rinnovato completamente tutto ciò che riguarda anche le parti interni e soprattutto abbiamo dato una nuova veste al gestionale con soluzioni che vanno sempre di più in un'ottica di controllo di gestione e di controllo delle performance. E' il caso della novità di quest'anno? E' il caso della novità di quest'anno che mette al centro di nuovo l'attenzione verso il nostro cliente dando tutte le informazioni necessarie per continuare a gestire correttamente il business aziendale. Dunque la AAA? Dunque la AAA che è un progetto nasce da un'idea che abbiamo maturato negli ultimi anni anche per dare una risposta importante a questi cambiamenti di mercato e a questi nuovi scenari dove in maniera semplice cerchiamo di dare un nuovo metodo di misurazione delle performance del punto vendita dando degli strumenti che misurano costantemente in tempo reale indicatori principali per una gestione del punto vendita in un'ottica retail. E questo è soltanto l'inizio in quanto siamo pronti con tantissime altre novità e nuove soluzioni che saranno sempre di più con questa logica di mission che fa parte anche del piano industriale che oggi presentiamo ufficialmente a Cosmopharma e abbiamo rilasciato a tutti i nostri clienti. Grazie per la visione!